Anticipazioni quello che nascondono i tuoi occhi, la nuova fiction con un'attrice del segreto. Mediaset ha in serbo per i telespettatori di canale 5 una bellissima e da vincente fiction spagnola intitolata quella che nascondono i tuoi occhi. Da qualche giorno infatti sulla rete del visione sta andando in onda la presentazione della nuova miniserie composta da quattro puntate della durata di 75 minuti l'una. Quando inizierà questa bellissima e affascinante serie televisiva? Stando a quanto rivela il giornalista Davide Maggio, pare proprio che la nuova fiction andrà in onda il 3 gennaio 2017 su canale 5 in prima serata. La nuova serie è tratta da una storia vera, è in costume ed è ambientata negli anni 40, periodo nel quale è appena terminata la guerra civile e dove la lotta tra potere e nuovi regimi erano all'ordine del giorno. La storia politica, già alquanto complicata, si intreccia con una love story passionale dei due protagonisti, la quale però sarà ostacolata in tutte le maniere dai genitori di entrambi. Grazie alle anticipazioni della fiction Quello che nascondono i tuoi occhi, tratte dal sito Mediaset, vi possiamo svelare che i due protagonisti in questione sono due ragazzi appartenenti all'alta borghesia, Maria Sonsoles e il bellissimo Ramon Serrano Suner. Inoltre nel cast, oltre a esserci due attori principali, Ruben Cortada, Blanca Suarez, c'è anche un'attrice famosa ai fans della soppopera del segreto, Maria Castaneda, ossia Loreto Muelon. Una storia d'amore clandestina Durante un ricevimento all'hotel Arriz di Madrid, il ministro degli esteri Ramon incontra gli occhi della bellissima Maria, la quale però è madre di tre figli, sposata con Francisco, uomo potente e più grande di lei. Anche il ministro però non è libero, in quanto è sentimentalmente legato a Zita Polo, la quale si rivelerà essere un personaggio molto pericoloso, quando scoprirà l'attresca del suo fidanzato. Maria e Ramon saranno coinvolti in una fortissima passione e dal loro amore clandestino nascerà Carmen. La bambina crescerà con l'idea di essere la figlia di Francisco. Carmen, quando avrà compiuto 17 anni, si innamorerà di Ramon Rollo Jr. La ragazza è inconsapevole del fatto che il suo innamorato altro non è che il suo fratellastro. La madre, venuta a conoscenza che la figlia è innamorata di Ramon Rollo Jr., farà di tutto per ostacolare questa storia d'amore e Carmen non ne capirà la motivazione. La miniserie, quella che nascondono i tuoi occhi, sarà composta da ben quattro puntate, ma ancora Mediaset non ha comunicato ai telespettatori quando manderà in onda le altre tre. I fans della soppopera spagnola del segreto saranno lieti di sapere che oltre a Maria Castaneda ci sarà anche Charlotte Vega, la quale ha interpretato il ruolo di Rita Randa. Inoltre ci sarà anche Javier Rey, colui che ha dato il volto a Matteo nella soppopera Velvet. La fiction in Spagna, quello che nascondono i tuoi occhi, ha ottenuto un grandissimo successo, attenendosi ad una media di ben oltre 3 milioni di telespettatori a puntata. Siete pronti ad immergervi in questa nuova e appassionante fiction spagnola? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Siete pronti ad una nuova e appassionante fiction spagnola per ricevere gli aggiornamenti.